Ciao a tutti e bentornati ad Evera Gondor, il canale youtube dedicato al signore di anelli e le cg. Oggi ci avventuriamo nella Valle Morgul con l'ultimo epico adventure pack di questo ciclo contro l'ombra. Questa non è una quest facile, anzi, ci sono un paio di approcci, che è quello, diciamo, l'approccio cerco di menare il più possibile e invece l'approccio più cauto del cerco di star sotto di minaccia e far fuori i nemici direttamente nell'area di allestimento. Proveremo a seguire questo secondo approccio, non è facile perché richiede proprio molta attenzione e anche, come si dice, una giusta combinazione di carte. Vediamo se ce la facciamo. Allora, Murzak non può lasciare il gioco, almeno che non è distrutto. Se Murzak è sconfitto avanza al prossimo stadio. Murzak è questo qui, che quando attacca rivela la top card del mazzo incontri, se quella carta è un nemico, mettilo in gioco ingaggiato con il giocatore in difesa. Questo è il motivo per cui vogliamo evitarcelo, perché questi captain sono particolarmente ostici e fastidiosi. Abbiamo già messo a parte quello che dovevamo mettere a parte. La mano la teniamo e quindi io direi iniziamo. La mano è buona. La luce di Valinor è anche, facciamo anche l'Airboard Record Keeper. Ero tentato dal Master of the Forge, ma almeno saliamo un po' di willpower. Ci evitiamo di salire di minaccia, che è la cosa fondamentale in realtà, stare sempre sotto di minaccia. Anche perché partiamo già a 6 e nell'area di restimento c'è 5. Quindi partiamo già abbastanza, come si dice, in salita. Ok, perfetto. Questo significa che pareggiamo. Va bene. Decidiamo di viaggiare verso la Morgul Veil. Ci ingaggiamo il Morgul Sorcerer. Gli diamo la carta ombra. Pariamo con Denethor. Ok, non prende progress, fortunatamente, in questo momento. 3 contro 3. E poi con Glorfinde gli facciamo 2 danni. Sfortunatamente, ci dice, alla fine del round, ogni giocatore ritorna un nemico ingacciato con lui nell'area di allestimento. Ok, quindi andiamo nel prossimo round. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. E qui io direi, facciamo 1, 2, 3 e giochiamo il Rivid del Minestrile e andiamo a prenderci la canzone, la Song of Wisdom, Close and Shuffle. Con la risorsa di Glorfindele andiamo a mettere la canzone a se stesso. A questo punto andiamo in quest con Mirlonde, Glorfindele, il Rivid del Minestrile e l'Aerobor Record Keeper. E stiamo mettendo 8, è abbastanza buono. Abbiamo gli Orc Balestriers. Quindi mettiamo 3 progress ed effettivamente esploriamo la Morgul Veil. Fase di incontri, ci ingaggiamo il Morgul Sorcerer. Purtroppo abbiamo un Archeri 2. Archeri 2 è scomodo, eh? Archeri 2 è fastidioso, devo capire come fare a gestirlo. Pariamo con Denethor. Dove aumentare la minaccia di 1 e poi con Glorfindele facciamo fuori il nostro Morgul Sorcerer. Ok. Ok. E allora lui come va fatto fuori? Lui va fatto fuori con Gandalf. Però Gandalf normalmente serve per abbassarsi la minaccia. Serve per abbassarsi la minaccia. O per pescar carte, fondamentalmente. C'è 4 nell'area di allestimento. Come lo sciottiamo? Con 7. 3, 5. 7. Quindi in realtà se andiamo con loro... Potremmo fare così. Facciamo così. Giochiamo l'Itilien Archer. Andiamo in quest con Glorfindele. Il Ministrello. Early Rebole Record Keeper. Ok. 3, 5, 7. Perfetto. Riveliamo una carta che è... Doom Ed 2. Doom Ed 2. Ogni giocatore deve scartare 3 carte random nella sua mano o piazzare un Progress Token sulla torre. Eh no, 3 carte random non mi va. Piazzo un Progress Token sulla torre. Quindi vinco di 2. Al momento non gioco ancora, le ho il consiglio di Errant. Mingaggi Balestrieri che hanno, abbiamo detto, Archeri 2. 1 e 2. Gli do la carta ombra. Lo paro con Denethor. Devo aumentare la mia minaccia di 2. Questa cosa non mi piace assolutamente. Però Denethor passa e poi con Glorfindele 3, 5 e 7 facciamo fuori i Balestrieri. Ok. Andiamo quindi nel turno successivo. Ok. La Forest Nair non è così fondamentale, ma ok. Mirlond è questo. Prendiamo il Master of the Forge che usiamo subito. Andiamo a prenderci un attachment che è la Forest Nair. Ok. E poi con uno di questi giochiamo proprio il Ranger Bow. Su questo. Così cominciamo lentamente. A questo punto andiamo con Glorfindele, Mirlonde, il Riven del Minestrel e l'Erable Record Keeper. E riveliamo una carta. La carta è il Morgul Tracker. Allora. Facciamo così. Giochiamo sicuramente il consiglio di Errant. per dare più uno al Riven del Minestrel, ma soprattutto scende la minaccia di 3. Un, due e tre. E ok. Così siamo a 26. Se lui me lo ingaggio, devo piazzare un altro Progress. E forse vale la pena. Vale la pena. Anche se cominciano ad essere due, vale la pena. Quindi lui me lo ingaggio. Dà la carta Ombra. Lo pariamo con Denethor. Ma fischia. Ritorno il nemico attaccante nell'area di allestimento. Maledetto. E poi con Ranger Bow faccio un danno a lui a questo punto. Ok. Cioè cosa faccio? Tappo l'Itilien Archer e il Ranger Bow per fare un danno a un nemico nell'area di allestimento. Ok. Quindi andiamo nel turno successivo. Andiamo a vedere cosa peschiamo. Nessun attachment. Sfortuna. Ok. A questo punto io direi andiamo con Glorfinde, Mirlond, il Riven del Minestrel e anche l'Airport Ripper Keeper. Eh, non sta mettendo su tanti Progress. Doomed 2. 1, 2. Eh, piazzerà un Progress. Piazzerà un Progress. Brutta, brutta storia. Però dopo c'ho Gandalf che mi abbassa comunque la minaccia. Ok. Non ingaggio nessuno. Con questo qui faccio questo danno a lui. E poi vado a vedere la prossima carta. Che è il luogotenente di Mordor. No, direi proprio questo ce lo mettiamo sotto. Move to bottom of the encounter death. Questa è una carta brutta. Quindi direi proprio di no. Ok. Quindi andiamo nel prossimo turno. Oh, bene. Il consiglio di Aaron ci piace assai in realtà. In realtà il consiglio di Aaron ci piace molto. Quindi... Temporeggio per Gandalf. Temporeggio. No. Giochiamo Gandalf. Quindi facciamo uno, due, tre, quattro e cinque. Gandalf entra in gioco e scendiamo di cinque di minaccia. Perché non sono ancora pronto come board. Ok. Poi andiamo a vedere cosa ci troviamo come attachment. Che è la Burning Brand. Che va bene. Ok. A questo punto questo con Glorfindel, con Mirlonde, con il Riven del Ministre e le Collerebore Record Keeper. Ok. E basta. Gandalf lo teniamo perché non si sa mai. Riveliamo il Morgul Bodyguard. Ok. Mettiamo su un Progress qui. Decidiamo di ingaggiarci il Morgul Bodyguard. Perfetto. Poi diamo una carta ombra a lui. Pariamo con Denethor, due, più uno, tre contro tre. Ci siamo. E poi abbiamo tre, sette. Ah, che peccato. Vabbè, sette, nove. Ne facciamo fuori lui. Ok. Quindi andiamo nel prossimo turno. Perfetto. Bene, Asphalot è buono. Peccato che non abbiamo... Close and Shuffle. Peccato che non abbiamo... Gandalf ovviamente se ne andava perché era giocato a pieno. Io direi paghiamo questo per metterla a Burning Brand. Sicuramente su Denethor. Paghiamo due per mettere l'Unexpected Courage su Denethor. Perché questo qua ci fa vedere la prima carta e ragionare. No, questa va assolutamente sotto. Perché questa qua mi farebbe rimischiare il Morgul Tracker e rivelare altre due carte. altre tre carte. Quindi assolutamente no. Questa qui, Move to the Bottom. Perché sostanzialmente cosa dice? Doomed 3, già va male. Conta il numero di encounter card nell'area di allestimento e mischiale nell'encounter deck. Il numero di carte sono tre. Perché sono il Morgul Tracker, il Lumurzag e la To the Tower che contano. Ma To the Tower e Lumurzag non possono lasciare l'area di allestimento. Quindi in realtà mi troverò in una situazione scomodissima di rivelare tre carte oltre a queste due. Oltre, diciamo, rimischiare solo il Tracker che è già quasi morto. Quindi no, assolutamente. Move to Bottom of the Encounter deck. Poi per non sapere né leggere né scrivere, proprio per evitare queste cose, io tappo lui e facciamo fuori lui. Così diciamo che siamo un po' più tranquilli. Glorfind del Mirlonde, dello Minestrel e l'Ereble Record Keeper. Quasi quasi mi tengo dietro Mirlonde, che non si sa mai. Riveliamo una carta che finalmente è un luogo. Oh, la Morgul Road. Bene, quindi vinciamo di due. Uno, due. Viaggiamo verso la Morgul Road. E andiamo nel prossimo turno. Ok, quindi. Anzitutto andiamo a vedere che carte abbiamo qua. Prendiamoci il Mirovor, che non si sa mai. Poi giochiamo le rune di Dairon per pescare due e scartare una e scartiamo la luce di Valinor. Bene. Poi paghiamo due per giocare il Custode. Bene. Poi andiamo a vedere con Denethor che cosa ci aspetta. Ed è l'Orc Vanguard. No, 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 no. Quando l'Orc Vanguard è nell'allestimento, le risorse non possono essere spese dalle Ressource Bulli eroi che hanno quella risorsa lì. No, no, via questa. Move to encounter deck bottom. Questa è la carta devastante. Ok. Quindi stappiamo Denethor. A questo punto io direi andiamo in quest con Glorfine del Ministrello Riven del Rebo Record Keeper. Siamo sopra di quattro. No, andiamo anche con Mirlonde. E bone. Ok. Riveliamo una carta. La carta è il Morgul Spider. Che quando è rivelata fino alla fine del round, il Morgul Spider prende più uno per ogni character non committed to the quest. Per cui lui prenderebbe... Ne abbiamo tre non committed to the quest. Quindi prenderebbe più tre. Taccerebbe a sette. Direi proprio di no. Io sto vincendo di tre, tra l'altro. Quindi gioco il consiglio di Erron per dare più uno a lei. E scende la minaccia di quattro. Un, due, tre, quattro. Bene. A questo punto ci succede che qua mettiamo su quattro progress. Ok. Questo non ci ingaggia, fortunatamente, essendo fino alla fine del round. Quindi io tappo il guardiano per fare così. Toglierci quest'Archery. E non faccio niente. Poi con Denethor vado a vedere la prossima carta. Che è un Surge a gratis. Quindi Move to Bottom of the Encounter Deck. Assolutamente. E poi con Littilient Archer e Ranger Bow facciamo un danno a Morzac. A questo punto cominciamo a fare dei danni a Morzac. Se no, non ne usciamo più. Ok. Quindi andiamo nel turno successivo. Perfetto. Oh, bene. Bene. Andiamo a vedere con lui di prenderci un attachment che è il protettore di Lorien. Bene. Però a questo punto possiamo cominciare a dire che abbiamo due per giocare Littilient Tracker e uno per giocare l'arco su Littilient Tracker. Ok. Bene. Poi possiamo fare uno di Glorfinder per giocare il protettore di Lorien su Denethor. A questo punto andiamo a vedere con Denethor che cosa ci aspetta. È un nemico. E lo rimuove dalla quest. Ok. È un nemico che ha 18. Lo vogliamo tenere o lo vogliamo mandare via? Fare due danni... Ah, vabbè, possiamo farlo a Mirlond in realtà. Quindi quanto abbiamo poi? Uno, quattro, sei, sette devo mettere, tre, quattro, cinque, e... non ce la facciamo. Fa niente. Fa niente. Giusto? Perché poi lui mi ingaggia. Quindi ho due nemici, il Morgul Spider e il Forest Bat. No, vabbè, il Forest Bat? No, no, no. Il Forest Bat lo facciamo fuori con Littilient Archer. Ok, va bene. Quindi, allora, facciamo così. L'Urden of Healing lo facciamo così e lui lo mettiamo sotto. No, lo rimettiamo sopra. Stappiamo Denethor. Andiamo in quest con Glorfindel, Mirlond, il Riemendel Ministry e l'Erebo Record Keeper. Perfetto. Riveliamo il Forest Bat. Faccio due danni a Mirlond e la tolgo dalla Quest. Quindi non sto mettendo progress in realtà. Ok? Però io a questo punto faccio Littilient Archer, lo tappo, faccio un danno a lui e lo facciamo fuori. E... Littilient Archer e l'altro... Non lo facevo con lui, diciamo. Lo facevo con lui. Ok. Quindi metto un progress che è proprio questa. E posso togliere un segnalino da To The Tower. Benissimo. A questo punto io mi ingaggio volontariamente il Morgul Spider, gli diamo la carta ombra, lo pariamo con Denethor. Non fa niente perché non c'è un prossimo next player. Denethor prende un danno e poi con Glorfindel che in realtà è stappato io faccio due danni al Morgul Spider. tappando questo e l'arco faccio un danno a Morgul e possiamo andare nel prossimo nel prossimo stage. Andiamo a pescare un attachment che a questo punto cambia poco ma è la Burning Brand Close and Shuffle. Paghiamo uno per giocare questo e pescare due carte che è un altro. Va bene, lui ci può aiutare successivamente. paghiamo due per giocare Asphalot su Glorfindel. Con Denethor andiamo a vedere che cosa ci aspetta. L'Ork Work Camp ma 7 3 5 3 5 7 8 quindi no va bene questo ce lo teniamo l'Ork Work Camp ce lo teniamo. Lui quanto ce ne voglio per far fuori? Ce ne vogliono ancora 3 più 1 4 3 dunque facciamo i conti se io mando in quest Glorfindel il Rivendello Ministrel e l'Aerobor Record Keeper perdo di 1 giusto? Sì perdo di 1 ok va bene io con questo qui esaurisco tolgo un danno un danno quindi andrò anche con Mirlond ok rivelo l'Ork Work Camp vinco no cosa dico cosa dico cosa dico cosa dico ok se c'è un Ork in Play e c'è un Ork in Play no giusto che faccio così quindi faccio così perfetto metto un unico progress che è questo viaggio verso l'Ork Work Camp ovviamente se c'è un nemico Ork in gioco è proprio questo che non possono impiazzare sull'Ork Work Camp finché è nell'area di allestimento non è più nell'area di allestimento con Asphalot io lo rimuovo perfetto poi do una carta ombra a lui paro con Denethor gli cancello l'effetto ombra prendo un danno con Denethor ma a questo punto io posso farlo fuori con Litignard Archer e Glorfindel perché facciamo 4 4-1 fa 3 e lo facciamo fuori e poi con Litignard Archer qua facciamo un danno a Murzag ok possiamo andare nel prossimo turno bene non ho più eventi perfetto pago una risorsa per far questo e pescare una carta due carte 1-1-2 ok andiamo a vedere con Denethor che cosa ci aspetta e il Morgul Bodyguard no il Morgul Bodyguard lo teniamo sotto in realtà teniamolo sotto c'è di peggio poi quanto gliene faccio 8 3-5 3-5 perché purtroppo non posso poi fare danni a Murzag no facciamo così move to bottom of the encounter deck che è un po' un rischio in realtà però stiamo fiduciosi dai andiamo con Glorfindel il Riven del Minister e le Record Keeper solo 4 se siamo sopra di 4 si va bene ok quando è arrivata un giocatore scegli una sfera ogni personaggio che un giocatore controlla che non appartiene a quella sfera prende 3 danni urca io scelgo scelgo una sfera di influenza ogni personaggio che un giocatore controlla che non appartiene a quella sfera prende 3 danni io scelgo la verde quindi tutti i personaggi non verde prendono 3 danni che è solo Glorfindel faticoso qua però vuol dire che mettiamo su 4 progress ok a questo punto approfittiamo per il Warden of Healing di curare uno a Denethor e uno a Glorfindel senza dubbio e poi con lui facciamo 2 danni a Murzag ok bene che abbiamo l'altro Ranger Bo perfetto allora Denethor paga 2 anzi prima Denethor vede cosa c'è prima cosa prima di tutte vede cosa c'è resistiamo sì se lo curiamo resistiamo va bene questa la teniamo allora questa qui la teniamo quindi andiamo a prendere un attachment che è il Mirovor Close and Shuffle poi con 2 ben detto giochiamo l'Italian Tracker con 1 giochiamo il Ranger Bo benissimo con 1 giochiamo il Mirovor che non si sa mai può essere sempre utile con il Wardenovilling andiamo a curare 1 a Glorfindel e 1 a Mirlonde perfetto e quindi andiamo in quest ci basta 2 andiamo solo con il Riven del Ministre riveliamo una carta che è proprio questa scelgo una sfera la verde tutti coloro che non sono verdi prendono 3 danni 1 2 e 3 ok non metto progress però a un certo punto io faccio Italian Tracker con Arco Italian Tracker con Arco e faccio 2 danni a Murzag e Murzag è sconfitto nel momento che Murzag è sconfitto si avanza al prossimo stadio ok nel prossimo stadio ci dice The Betrayal quando rivelata aggiungi Lord Alcaron all'area di allestimento ok giriamo Lord Alcaron non può lasciare il gioco finché non è distrutto se Lord Alcaron è sconfitto avanza al prossimo stadio ok Lord Alcaron è un po' fastidioso in realtà e niente lo lo dobbiamo affrontare quindi io direi con questo stappiamo Denethor 4-2 4-1 sto facendo un po' di conti perché ho un po' paura di quello che potrebbe succedere si ok va bene forse il Miru vorrà meglio darlo a Denethor vabbè vediamo cosa succede quindi Lord Alcaron poi ci vogliono 8 3 5 7 e non riesco a far niente dovevo darlo a qualcun altro il Miru fa niente ok 7 poi lo ributtiamo nell'area di allestimento e lo facciamo fuori con l'arco dopo va bene quindi mi ingaggia lo ad Arcano che ha 10 gli diamo l'effetto ombra pariamo con Denethor quando attacca piazza un progress su the tower piazza un progress su the tower l'effetto ombra non c'è effetto ombra quindi dice quando è dato un effetto ombra senza l'effetto shadow fa un attacco addizionale dopo questo quindi prendo un danno ok qua perdo un eroe però può essere il momento in cui ci può stare perdere un eroe in realtà ci può stare ci può stare ok poi gli do una carta ombra e parerò con Mirlonde è un po' un peccato ma va bene non voglio perdere Alien Archer per vari motivi ok quindi piazzare un progress sulla torre di me che si dice l'attacco deve risolvere una attachado of card purtroppo andremo a perdere Mirlonde purtroppo non ho modo di fare altre cose perché lui non può parare non posso stappare Dwarf Character non voglio perdere Glorf Finder in nessun modo non c'è effetto ombra quindi lui fa 4-1 3 e ci fa fuori Mirlonde oh boy dove sono gli effetti ombra quando servono dove sono gli effetti ombra quando servono dovrò perdere Litignan Archer solo che questo ci massacra poi dopo perché poi io come faccio a farlo fuori non riesco sa che qua dopo questa lunga partita dopo questa lunga partita abbiamo perso sì perché eh sì è così è così vediamo la carta ombra pariamo con Litignan Archer c'è un effetto ombra finalmente tra l'altro piazza 1 piazza 1 arriviamo a 6 Litignan Archer è sconfitto ok il problema vero è che adesso io non so come farlo fuori questo qui non lo faccio più fuori perché adesso con 3 non riesco neanche a farlo fuori quindi ok non demordiamo ok eh andiamo nel turno successivo nel turno successivo quello che possiamo fare abbiamo 3 risorse e andiamo a giocare la Forest Nair su il nostro Lord Alcaron ok questo già ci pone in condizioni un po' diverse da prima andiamo a vedere se c'è un attachment non ci sono più attachment quindi close and shuffle eh non ho risorse ho perso un eroe andiamo a vedere con Denetor che cosa abbiamo a salire di 6 non mi piace tanto salire di 6 non mi piace tanto no move to bot move the encounter deck ok quindi direi che comunque usiamo lui per toglierci i danni che non si sa mai stappiamo Denetor andremo con Glorfindel il living del minister e l'erebo record keeper e rivediamo una carta che è l'orc work camp va bene mettiamo un unico progress viaggiamo verso l'orc work camp in realtà non ci viaggiamo neanche e lo facciamo fuori con Asphalot lui diamo una carta ombra ma siccome non attacca non riveliamo la carta ombra ok perfetto quindi a questo punto però possiamo attaccarlo 3 sono di Glorfindel 4 5 e 6 quindi sono comunque 3 danni a Lord Alcaron ok possiamo andare nel turno successivo bene andiamo a vedere se c'è qualche carta che ci interessa un attachment che è il protetto da Lorien close and shuffle andiamo a vedere che cosa ci aspetta come carta incontro che è l'orc vanguard che direi mettiamo sotto direi mettiamo sotto move to bottom mountain counter deck sì per forza perché poi non posso spendere sì sì move to encounter deck bottom insomma poi non posso spendere quindi stappiamo denetro a questo punto poi ce ne mancano 5 che potrebbero essere loro 2 ok quindi andiamo con Riven del minestre con le reborde che orchipere con Glorfindel riveliamo una carta che è la Morgul Road 1, 2, 3, 4 viaggiamo verso la Morgul Road diamo una carta ombra a lui ok è già passata la fase dell'attacco di tutte quelle cose lì lui non attacca e a questo punto noi noi possiamo attaccare con Glorfindel Denethor e a male in cuore un Italian tracker per farlo fuori quando questo qua è sconfitto perché dico a male in cuore perché qua mi sa che poi mi becco il Natskull nell'area di allestimento e anche il White Bridge ok questo qua ha un 6 caspita notevole ok però cosa facciamo qua quando l'ho aggiunto tappo l'Itilien tracker e faccio un danno al Natskull di Minas Morgul ok con lui vado a curarmi un danno a lui e poi vado nel prossimo turno ok allora allora facciamo così ho in mente come farlo fuori 3 4 di Gandalf e poi l'attacco ok ho in mente come farlo fuori ah no rivela una carta per player dal mazzo dell'incontro e aggiungere all'area di allestimento quindi oltre a quello lì c'è anche un'altra carta che è il Morgul Spider che rimane lì di fatto perché è rivelata nel turno precedente no ok va bene Natskull di Minas Morgul non può avere attachment riduci ogni amount di danni fatto al Natskull di Minas Morgul a 1 ok quindi io gliene faccio 2 loro allora facciamo una cosa andiamo a vedere perché lui potrebbe tenerlo come come blocker andiamo a vedere cosa ci aspetta come carta così poi giochiamo scoperto va bene l'Archery ci dà fastidio fino a un certo punto però vorrebbe dire avere 15 nella staging che non è proprio poco e vorrebbe dire avere un sacco di nemici che ci ingaggiano ok va bene io direi che dunque usiamo il Mirovor diamo una risorsa a Goldfiend e gli diamo più uno fino alla fine del round con 5 risorse andiamo a mettere giù Gandalf ci siamo che cosa fa Gandalf Gandalf fa 4 danni a Nazgul di Minas Morgul purtroppo ne passa solo uno ok va bene è così la vita è brutta a volte ok però a questo punto io posso fare questa è quella che viene rivelata io posso fare che con l'Ittilian Tracker faccio due danni a Nazgul di Minas Morgul per cui adesso nel momento in cui lo attacco a 5 io lo faccio fuori e 5 potrebbero essere Glorfindel e Gandalf quindi Glorfindel e Gandalf devono attaccare tutto il resto io chip blocco di fatto giusto Odene Toro chip blocco e quindi poi lo stecchiamo ok con chi vado in quest vado con Glorfindel sicuramente così perdo di 11 vado a 42 di minaccia però vabbè siamo sotto Mordor ci sta ci sta a meno che non vado anche con Denethor se vado con Denethor vado a un più 4 poi io quanti nemici ho? 1, 2, 3 e ho 3 nemici 1, 2, 3, 4 3 blocker no 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 Denethor me lo tengo lì me lo tengo lì Denethor ok va bene quindi io vado solo con Glorfindel rivelo una carta nel l'area dell'estimento c'è 15 perché sono 6 10 13 15 quindi io perdo di 11 per cui vado a 42 ok a questo punto mi ingaggiano tutti in realtà ci siamo? mi ingaggiano tutti perfetto quindi do le carte ombra ok ho un archery 2 che diamo a Gandalf anzi ne diamo uno aiutino in track che un altro all'altro Italian tracker ok il Morgul Spider lo paro con Denethor c'è un effetto ombra che cancelliamo e quindi Denethor prende un unico danno anzi no scarto la luce di Valinor Denethor prende più 1 alla difesa per cui 4 contro 4 non c'è problema gli orchi balestrieri li paro col Master of the Forge e che vabbè prende più 50.000 il Master of the Forge purtroppo ci saluta e invece il Nazgul di Minas Morgul lo pariamo col Guardiano della Guarigione anzi se ne parliamo col Riven del Minister il nemico attaccante ingaggia il prossimo giocatore e fa un attacco immediato non ci sono prossimi giocatori per cui Riven del Minister viene sconfitto a questo punto Glorfindel di Uganda attaccano 7 7-4 fa 3 è ridotto di 1 il Nazgul di Minas Morgul è sconfitto e diciamo che per il rotto della cuffia ma è una partita che spero che vi sia piaciuta e anche diciamo con scelte interessanti e in un momento ho pensato che non ce la potevamo fare però ce l'abbiamo fatta con un punteggio di 192 punti e un epici 15 turni 15 round bella mi è piaciuta molto molto spero che sia stato così anche per voi io vi ringrazio e abbiamo concluso il ciclo di contro l'ombra e quindi più in là ci addentreremo nel ciclo della voce di Isengard grazie e alla prossima